Zalt Portable l'unico sistema anti zanzare portatile a batteria e da quest'anno è presente in due versioni lo storico Zalt Portable e la novità del 2021 Zalt Portable Connect che ci permette di avere maggiore flessibilità nella programmazione delle nebulizzazioni. Come funziona Zalt Portable basta accenderlo avviare la nebulizzazione e con due soli cicli al giorno da tre minuti ci permette di liberarci dalle zanzare dagli insetti molesti nelle nostre aree verdi. Dicevamo che Zalt Portable è appunto portatile all'interno c'è una batteria ad alta capacità che ci permette di avere circa 20 giorni di autonomia senza dover essere ricaricata. Nella parte anteriore troviamo il serbatoio da otto litri e vediamo anche che è possibile vedere subito senza dover aprire il tappo vedere il livello del liquido e quindi il livello del serbatoio e nella parte superiore troviamo i tre ugelli che servono per la nebulizzazione micronizzata del liquido che andremo a scegliere di utilizzare. Cosa troviamo in confezione? Troviamo ovviamente la nostra macchina con i tre ugelli, troviamo una bottiglia di insetticida tetra più, troviamo la caricabatterie da parete per ricaricare il nostro Zalt e troveremo anche un telecomando che ci permette di accendere e spegnere la macchina con tutta semplicità. Come avviene la nebulizzazione con Zalt Portable? Possiamo nebulizzare manualmente quindi o tramite telecomando o nel pannello posteriore avviare la macchina ed effettuare la nostra nebulizzazione da tre minuti oppure possiamo effettuare una programmazione di tipo semi-automatico. Che cosa vuol dire semi-automatico? Che possiamo dire alla macchina di nebulizzare ogni 12 o ogni 24 ore in modo automatico la macchina si avvierà per tre minuti per poi tornare in stand by. È semi-automatica perché l'orario, diciamo la prima nebulizzazione, nell'orario della prima nebulizzazione deve essere avviato manualmente. Facciamo un esempio concreto. Vogliamo nebulizzare alle ore 18, metteremo la macchina in programmazione automatica 12 ore per esempio, avvieremo la macchina per questa prima nebulizzazione, la macchina quindi nebulizzerà per tre minuti per poi andare in stand by e riavviarsi la mattina successiva alle ore 6 sempre per tre minuti così fino a quando la macchina sarà programmata ovviamente in modalità automatica. È possibile quando la macchina è programmata in modalità automatica anche effettuare una nebulizzazione aggiuntiva in modalità manuale tramite telecomando o schiacciando un semplicissimo bottone posto nella parte posteriore della macchina. La macchina prima di avviarsi accenderà diciamo una piccola suoneria e ci darà il tempo di allontanarci diciamo dalla macchina prima della nebulizzazione effettiva. Che tipo di liquido posso utilizzare nello Zalt Portable? Possiamo utilizzare due tipologie di prodotti, un insetticida o un prodotto disabituante naturale. L'insetticida abbiamo visto essere il Tetra Plus, è un prodotto appositamente studiato per la Zalt Portable, è un prodotto pronto all'uso quindi basta inserirlo all'interno del serbatoio per poi partire con la nebulizzazione. In dotazione viene fornita una tannica da un litro ma come ricambio è possibile acquistare la tannica da 5 litri che ci permette di avere un'autonomia di circa 7-8 giorni. La funzione dell'insetticida è quella di essere estremamente efficace e pronta già dalle prime nebulizzazioni ed è ovviamente una abbattente per cui elimina zanzare ed insetti molesti. Discorso un po' differente è quello del prodotto naturale, il Natural Green. È un prodotto concentrato a base di oli essenziali naturali per cui non ha nessuna controindicazione contro l'uomo, contro i bambini per esempio animali o vegetazione in generale. È un prodotto concentrato per cui utilizzeremo mezza bottiglia di prodotto naturale e faremo il riempimento degli 8 litri con acqua e saremo pronti con la miscela giusta per poter essere nebulizzata. Non è un abbattente, è un disabituante che vuol dire che questo prodotto ha una gradevole profumazione per l'uomo ma è assolutamente sgradita alle zanzare e gli insetti in generale che tenderanno a non coprire ovviamente la vostra area esterna o area verde. Qual è la capacità di copertura di Zalt Portable e Zalt Portable Connect? Arriviamo fino a circa 150 metri quadri e dovremo posizionare la macchina al centro del giardino se non abbiamo vento oppure se abbiamo delle correnti particolari la metteremo in un modo intelligente in modo da avere la maggiore copertura possibile delle aree che noi vogliamo andare a proteggere. Quali sono le differenze tra Zalt Portable e Zalt Portable Connect? Riguardano la possibilità di avere maggiore flessibilità dal punto di vista della programmazione, delle nebulizzazioni, degli orari e dei giorni della settimana. Programmare Zalt Portable Connect è molto semplice. Avviamo la macchina, la macchina accenderà una sua wifi a cui noi ci dovremmo collegare con il nostro smartphone che sia Android o iOS non è importante. Funziona anche con i tablet, funziona anche in assenza di connessione internet. Ci colleghiamo direttamente alla wifi, la password è indicata nella parte posteriore della macchina. Nella parte anteriore invece troviamo un QR code che possiamo leggere al nostro smartphone e accedere alla pagina web oppure possiamo digitarla manualmente perché è fzsetup.it e questa ci permetterà di accedere alla parte, alla pagina diciamo di controllo della macchina. C'è un bel bottone grande che ci permette di fare una nebulizzazione di tipo manuale. Come sentite c'è un bip che ci avvisa qualche secondo prima di iniziare la nebulizzazione per darci il tempo di spostarci, allontanarci dalla macchina. Nella parte in alto a destra troviamo il bottone che ci permette di accedere a cicli ed impostazioni. Andiamo su cicli e troviamo la possibilità di fare fino a quattro cicli al giorno, decidere a quale orario avviare la macchina, quindi a differenza rispetto allo ZALT portable normale che ci permette di avere due nebulizzazioni al giorno ogni 12 ore necessariamente. In questa potremmo decidere l'orario che preferiamo ma anche fare una programmazione differente a seconda del giorno della settimana. Quindi questo ci permette di fare una nebulizzazione in più per esempio nel fine settimana se decidiamo se viviamo di più l'ambiente esterno in in quei giorni della settimana appunto. Dicevamo che la copertura di queste macchine è di circa 150 metri quadri. Che cosa fare se il nostro giardino è più grande di questa diciamo di questa superficie? Possiamo utilizzare un accessorio che si chiama kit garden extension che ci fornisce in dotazione 25 metri di tubo, tutta la ferramenta necessaria per creare il nostro mini impianto e in dotazione 3 ugelli perché se ne possono montare fino a 6 ma 3 ugelli sono in confezione e 3 ugelli li troviamo a bordo della macchina. L'installazione di questo mini impianto è fai da te ma è estremamente semplice basta posizionare il tubicino circa un metro e mezzo di altezza e andare a posizionare i 6 ugelli a circa 4-5 metri di distanza l'uno dall'altro. Toglieremo quindi i 3 ugelli dallo Zalt Portable, inseriremo due tappi forniti sempre in dotazione per tappare due uscite e il nostro impianto partirà da una sola uscita di Zalt Portable. Questo significa che la macchina dovrà essere posizionata o all'inizio o alla fine del nostro impianto e non potremo partire posizionando la macchina al centro con due tubazioni una da un lato e una dall'altro. In questo modo avremo la possibilità appunto di aumentare l'area di efficacia del nostro Zalt Portable oppure di creare questo mini impianto che ci permetterà di mettere la macchina non al centro del giardino ma magari in una posizione un pochettino più defilata e meno visibile all'esterno quindi anche per una questione diciamo estetica. Quali sono le avvertenze da avere diciamo nell'utilizzo di Zalt Portable? Ovviamente la macchina è impermeabile può essere tranquillamente lasciata anche sotto la pioggia o in caso di umidità diciamo che però è consigliabile mettere in una posizione diciamo più riparata soprattutto nei mesi estivi quando la temperatura del dispositivo potrebbe raggiungere temperature piuttosto elevate e quindi il liquido che c'è all'interno potrebbe perdere un pochettino di efficacia dato dall'alta temperatura quindi andrebbe posizionato in un posto un pochettino in penombra oppure messo nella posizione di nebulizzazione agli orari in cui l'avremo programmato. Cosa fare invece se abbiamo un giardino più grande e quindi il nostro Zalt Portable non è più sufficiente a garantirci la protezione della nostra area esterna possiamo passare al fratello maggiore che è lo Zalt Evolution esiste sempre in due versioni lo Zalt normale diciamo è la versione Connect come succede per il Portable è una macchina che richiede un impianto fisso ma questo lo vedremo nel dettaglio in un prossimo video. Spero di aver chiarito i dubbi riguardo Zalt Portable e il suo funzionamento se avete delle domande potete scriverla nei commenti e vi risponderò prima possibile nei dettagli del video troverete invece i link alle schede prodotto per avere maggiori informazioni e per eventualmente decidere all'acquisto attraverso il nostro shop che è Emporio d'Antonio. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e continuate a seguirci nei prossimi video di presentazione. Ciao e a presto